Riabilitazione a casa anziché in ospedale è un progetto innovativo in collaborazione con il CNR presentato sempre al Maker Faire di Roma, al servizio di Matteo Parlato. Per chi ancora credesse che il Maker Faire è un condominio di nerds che fanno giocattoli inutili, ora vi presentiamo un progetto che nasce dalla collaborazione tra CNR e Regione Lombardia, il cui obiettivo è la riabilitazione, ma facciamoci spiegare da loro esattamente come funziona. Il progetto Riprendo e Tom ha l'obiettivo di sviluppare dispositivi che possano aiutare il paziente durante la terapia di riabilitazione neuromotoria, non solo in ospedale ma anche a casa. L'obiettivo che si pone è proprio sgravare la clinica dalla necessità di dover ospitare in casa i pazienti, almeno per alcuni tipi di patologie, eseguire le riabilitazioni, supportare il fisioterapista e soprattutto permettere al paziente di eseguire la terapia in un ambiente più confortevole che è appunto quella domiciliare, piuttosto che doversi recare in ospedale. Siamo venuti al Maker Faire proprio per mostrare e dimostrare che dispositivi utili possono essere fatti con tecnologie disponibili a tutti.